Buona domenica! Ho visto una preghiera potente da pregare in Colossesi capitolo 1 e leggo dalla seconda parte di versetto 9 e poi 10. Non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza ed intelligenza spirituale, perché camminate in modo degno dal Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni buona opera e crescendo nella conoscenza di Dio. E questo è base. Se agiamo o parliamo con la nostra conoscenza o con la nostra intelligenza o per la nostra volontà, sbaglieremo alla grande, perché siamo ancora nella nostra carne e abbiamo bisogno di pregare gli uni per gli altri per poter prendere decisioni e agire con la sapienza di Dio. E' basilare che facciamo questa valutazione personale di camminare in modo degno dal Signore per poter portare un frutto spirituale in ogni opera che il Signore ci mostra da fare. ed è a nostro vantaggio per la nostra crescita spirituale fare spesso una valutazione dalle nostre vite per assicurare che qualunque atteggiamento o cammino nostro che non è degno dal Signore lo confessiamo al Signore per cambiare strada, per poter piacergli e portare in frutto spirituale. E qui vorrei collegare l'esultazione in questi versetti con questo nostro tempo negli Stati Uniti. E' un tempo in cui possiamo investire in modo a volte più concentrato nella vita di certi, stimolando e incoraggiando in varie maniere verso il servire. E' essere disponibile per affrontare i vari bisogni nella Chiesa. E c'è da incoraggiare i deboli e stimolare i più forti in avanti per portare un frutto spirituale nelle buone opere. E grazie a Dio in questa Chiesa vediamo che ci sono persone pronte e desiderose di crescere e anche di prestarsi dove ci sono bisogni. Quindi pregate, prima di tutto, che siamo ripieni della conoscenza della Sua volontà e che con il tempo limitato che c'è possiamo investire dove il Signore vuole per portare un frutto spirituale. Grazie. Grazie. Grazie.